Il COGAL Monteporo Serre Vibonesi, nell'ambito dei vent'anni dell'ente, presenta il seminario Le politiche per lo sviluppo dei territori rurali. L'esperienza del COGAL Monteporo Serre Vibonesi. Grazie per l'invito e grazie per il lavoro che in tutti questi anni state facendo in maniera silenziosa ma con una volontà che contraddistingue soltanto le persone che credono fortemente in quello che fanno. Il tema che trattate oggi è di estrema importanza, soprattutto per un territorio come il nostro, che dovrebbe assolutamente puntare sulle risorse agricole, risorse rurali. Se andiamo a vedere un pochettino quella che è stata la politica della comunità europea negli ultimi anni, si vede un, secondo me, un'oscillazione tra due tipi di investimenti, cioè aver mirato da una parte molto in quello che è lo sviluppo del sistema rurale inteso come potenziamento di tutti i prodotti agroalimentari e quindi dare la possibilità ai territori di investire, di creare, di sviluppare questo settore. Però secondo me è stato lasciato un pochettino da parte un altro settore che dovrebbe essere fondamentale, cioè quello di mirare a migliorare quelle che sono le qualità di vita nelle aree rurali. In effetti la riforma dei PAC degli ultimi, del 2010, questo interrogativo lo lascia, cioè ancora non ha trovato un giusto equilibrio tra i due tipi di investimenti. Il ruolo della Regione, a parer mio, dovrebbe essere quello proprio di sviluppare questo settore, cioè sviluppare, dare la possibilità soprattutto a territori in aree come quelle della Calabria, a territori che hanno dal punto di vista infrastrutturale delle grossissime carenze, aiutare questi territori a far sì che attraverso investimenti sulle infrastrutture possano essere competitive e al pari con tutte le altre aree rurali della nostra nazione. Naturalmente questo si può fare semplicemente ed esclusivamente coinvolgendo tutti gli attori principali che in questo settore cooperano, quindi dalle amministrazioni, dalle associazioni che giornalmente si spendono in questo territorio e soltanto facendo questo si può valorizzare al massimo quello che la nostra terra può naturalmente offrire a tutto il sistema. Io penso che noi abbiamo appunto queste due aree della nostra zona, quella del Pore e quelle delle Serre, che possono e devono essere un volano per la nostra provincia. In effetti oltre al mare noi abbiamo queste due zone che sono meravigliose se e soltanto se la politica le mette in condizioni di poter esprimersi al meglio. E quindi penso che, come dicevo prima, un investimento, un forte investimento da parte della Regione per dotarle di infrastrutture deve essere assolutamente prioritario. Anticipo questo. Da qui a breve verrà presentata, anzi è già stata presentata in Consiglio regionale una proposta di legge dal sottoscritto e da qui a breve verrà presentata ufficialmente che proprio riguarda lo sviluppo dell'area del Poro. Questa legge da me presentata mira a far riconoscere a livello regionale l'area del Poro come territorio da tutelare e tutelare sia dal punto di vista, anzi non, per tutto quello che sta dando, che può dare e in questa legge naturalmente sono previste, è previsto un finanziamento ad hoc proprio per dare la possibilità a tutte le aziende che lavorano nell'agroalimentare. Ricordiamoci che nella zona del Poro abbiamo oltre all'anduia i fagioli, il pecorino, ma anche dal punto di vista culturale, ricordo il arrombiolo, il singal toco e saluto, la cultura musicale, quindi far sì che la regione attraverso un'apposita legge possa dare gli strumenti a questa meravigliosa zona per poter essere volano a livello calabrese. Quindi il mio impegno sarà massimo, sono sicuro che lavoreremo insieme affinché maggioranza e mi auguro, anzi opposizione, ma mi auguro che venga sposata in pieno anche dalla maggioranza affinché questa legge possa essere da qui a breve approvata e dare gli strumenti necessari a questa nostra zona per poter decollare. Grazie a tutti.